La Pergolettese è già salva, come è stato annunciato anche nell'immediato dopo gara al Voltini, senza bisogno di aspettare oltre. Il motivo? La classifica a Vulse e soprattutto una combinazione di calendario che, con Provercelli-Mantova in programma domenica 16 aprile, toglierà giocoforza punti a una delle due. Quando si calcola la matematica in genere vanno ipotizzate le situazioni peggiori possibile. E la situazione peggiore possibile impone che il Mantua faccia 6 punti su 6 nelle ultime due gare, mentre la Pergolettese deve restare ferma al palo. A quel punto avremmo Pergolettese-Mantova a quota 48 con i virgiliani favoriti dagli scontri diretti. Tuttavia il fatto che il Mantua debba ancora giocare con la Provercelli impone che i piemontesi possano salire dagli attuali 45 punti al massimo a 48, 3 punti e non più 6. Così facendo avremmo un triello a quota 48, ma soltanto una giocherebbe il play-out, perché nel frattempo dietro arriverebbero il San Giuliano, oggi a 41 ma con due sole gare a disposizione, dunque massimo 47 punti, l'Albino Leffe oggi a 37 al massimo a 43 e la Triestina oggi a 35 al massimo a 41. Dunque una sola squadra giocherebbe il play-out e sarebbe la Provercelli condannata dagli scontri diretti sia con la Pergolettese sia col Mantua. Vi sono però altri tre casi limite che coinvolgono tutte le squadre che ad oggi possono arrivare a quota 48, ossia anche il Trento che ci arriva con due successi e la ProPatria che tocca quella quota con due pareggi. A quel punto in caso di arrivo a 5 si calcola la maxi classifica avulsa, così come in caso di arrivo di 4 squadra 48 con una tra Trento e ProPatria. Ma in tutti e tre i casi, avendo la Pergolettese fatto 6 punti sia con i Trentini che con i Bustocchi, sarebbe salva. Non solo, in tutti e tre i casi sarebbe sempre la Provercelli l'unica condannata a giocare il play-out. Non è tutto, la Pergolettese è padrona del proprio destino anche per centrare i play-off. Se infatti già lo blu fanno 6 punti contro ProSesto e Triestina sono matematicamente dentro la post-season. Il motivo? La presenza in calendario degli scontri diretti Juventus-Next-Gen-Arzignano e Arzignano-Renate che porteranno almeno una di queste tre formazioni che precedono di uno o due punti la Pergolettese a lasciare qualcosa per strada. Motivo per cui già lo blu potrebbe bastare anche qualcosa meno di 6 punti, ma la matematica si ha col percorso netto da qui alla fine.